In questo bellissimo salone di Palazzo Farnese ci ha raggiunto Simone Farnasari che a varie deleghe partiamo da quella in qualche modo più importante senza togliere nulla alle altre che quella al commercio. Ma prima ancora di entrare nello specifico della materia o delle materie vorremmo capire in questi circa quattro mesi che sono passati dal insediamento della Giunta cos'è cambiato nella vita di Simone Farnasari? Oddio è cambiato tantissimo, è cambiato tantissimo perché ci siamo dal 14 luglio quando il sindaco ci ha conferito questo incarico abbiamo condiviso un progetto di squadra e da quel momento ho avuto una seconda famiglia, la Giunta, i miei colleghi, una nuova vita, grande emozione e grande responsabilità. È cambiato tanto perché in questi quasi quattro mesi l'obiettivo è stato quello di cercare di capire il più possibile, entrare nelle dinamiche, nei processi, conoscere le persone, interfacciarsi con gli uffici. Posso dire che abbiamo lavorato tanto e mi sento di parlare appunto del plurale perché oltre ai miei colleghi c'è anche una macchina amministrativa che si è messa da subito a disposizione e sicuramente l'unione fa la forza e ti fa pesare meno la fatica. Non esiste più il sabato e la domenica, non esiste più la sera, c'è meno tempo per la propria vita personale. Non si possono più mettere i calzoni con il risvoltino? Non posso più, no, quelli li continuo a mettere perché guarda, c'è il suo anche oggi, però diciamo che sono cambiate tante cose, però la voglio vedere in un modo positivo perché sto avendo tanto da questa esperienza, nonostante sia da poca iniziata e spero di poter dare altrettanto alla mia città. Vediamo cos'era invece il prima, qual era l'occupazione principale di Fornasari prima della nomina all'assessore? Io per anni mi sono occupato di sviluppo commerciale per una società, un consorzio stabile di Bologna dove seguivo commesse su tutto il territorio nazionale, tant'è vero che quando Katia mi contattò all'inizio della sua avventura per chiedermi se volevo entrare in lista con lei, mi dissi che per me non sarebbe stato possibile perché stavo seguendo un'attività in Puglia e un'altra nella zona del Friuli, dunque mi occupavo di sviluppo commerciale, da quando poi ho accettato con grande piacere questa nuova avventura e questo prestigioso incarico mi sono messo in aspettativa e diciamo che oggi mi sembra che siano quasi passati più che quattro mesi, quattro anni perché sono successe talmente tante cose, ho incontrato talmente tante persone e sto cercando di entrare in talmente tanti processi e dinamiche nuove che sto perdendo quasi anche la concezione del tempo. La missione che le è stata affidata è in qualche modo una missione impossibile, quella del commercio, il commercio è messo malissimo, ma non solo a Piacenza, a livello italiano e direi a livello mondiale, la distribuzione a cui si era abituato, quella capillare nei centri cittadini, è un modello che oggi sta soffrendo decisamente molto anche perché si è favorito lo sviluppo di modelli molto diversi come queste grandi piattaforme di e-commerce che si sono imposte tanto più nel periodo della pandemia, anche se pure loro stanno soffrendo un pochettino in questo momento. Missione impossibile, però qualcosa si può tentare di fare in questa città o no? Dobbiamo, dobbiamo per forza cercare di farlo. Sicuramente faccio una piccola premessa, appunto arriviamo da un'emergenza sanitaria che ha sicuramente cambiato l'evoluzione di ogni dinamica di sistema di tessuto economico-sociale e oggi stiamo affrontando un'altra situazione altrettanto significativa legata al Carro Energia che sta mettendo veramente in ginocchio tutta la rete commerciale. Sta mettendo in ginocchio la rete commerciale perché ovviamente impatta su tutta la filiera, diminuisce il potere ad acquisto, c'è una fortissima concorrenza appunto delle grandi catene distributive. Quello che stiamo cercando di fare in questo primo step è sicuramente l'obiettivo di fare sistema, di mettere insieme ogni singolo stakeholder che c'è sul territorio a partire dalle associazioni di categoria che sono fondamentali nel confronto costante per avere un termometro di quella che è la situazione, nell'associazione dei commercianti, ma non solo ma proprio in tutta la rete del tessuto cittadino per cercare di fare il sistema, di costruire attività, eventi, iniziative, di comunicare ma ancora prima di provare a programmare comunicando internamente quello che può essere fatto a livello proprio ideotico per la città. Parlava di associazioni dei commercianti, proprio nei giorni scorsi c'è stato un incontro e le associazioni, i confesi e i centri con commercio hanno chiesto alcune cose a partire dalla sospensione o abolizione della COSAP, ossia occupazione solo pubblico, sospensione o abolizione per un certo periodo della Tari, la tassa sui rifiuti e l'altro argomento che hanno introdotto, gli altri due argomenti che hanno introdotto un grande evento o grandi eventi, un po' come sono stati il Guercino per esempio e la salita al Pordenone e infine la sospensione dell'allargamento della ZTL. Accoglibili in toto o nessuna di queste? Sicuramente stiamo valutando ogni singola richiesta che ci è stata fatta di concerto con la Giunta per capire l'eventuale fattibilità e implementazione di quelle che possono essere le proposte che arrivano dai nostri interlocutori. Siamo consapevoli che partendo a ritroso dai punti che mi ha appena elencato per quanto concerne il discorso della ZTL, sappiamo che è già stato fatto un percorso di sperimentazione in passato che non sembra aver dato grandissimi frutti. Siamo consapevoli che ci adopereremo per provare a trovare magari soluzioni alternative o qualche compromesso affinché si possa ragionare di concerto insieme nell'individuare quella che può essere una soluzione migliore per favorire la propulsività di tutto il tessuto commerciale. Per quanto concerne la costruzione di un grande evento sono assolutamente concorde e ribadisco la grande consapevolezza del lavoro di squadra che stiamo facendo perché soprattutto anche grazie alla collaborazione e al lavoro a quattro mani che stiamo conducendo insieme all'assessorato al turismo e alla cultura crediamo che sia necessario mettere in rete queste due funzioni perché tutto il concetto di marketing territoriale non può e non deve camminare distante e distinto tra queste due figure. E ovviamente la base di ogni cosa sarà appunto costruire una programmazione a lungo periodo che possa permetterci di avere anche più attrattività a livello comunicativo e propulsivo sia per la nostra città che per i territori di Mitnofi. Una delle nostre sicuramente ambizioni, una delle nostre mission sarà quello di provare anche a costruire un'interconnessione tra il polio espositivo di Piacenza Expo e la città di Piacenza perché sappiamo che Piacenza Expo ha ospitato, sta ospitando e ospiterà eventi di richiamo nazionale e internazionale. Sappiamo che saranno tantissimi visitatori che vengono nella nostra città e dovremo trovare il modo di interconnetterli affinché questi possano anche avere l'opportunità di visitare la nostra città e di creare un indupo. Per quanto concerne i primi due punti, ovviamente è basilare, fondamentale un confronto con un tema oggettivo, quello della sostenibilità economica perché siamo consapevoli che la macchina amministrativa debba anche potersi sostenere a livello economico e dunque cercheremo di valutare ogni possibile proposta consapevoli che la stessa debba essere sostenibile per il Comune. A proposito di sostenibilità economica, cosa si farà per le luci di Natale che negli ultimi anni sono state pagate dall'amministrazione e visto anche il tema dell'aumento dell'energia, dei costi di energia? Ci siamo fatti tante domande, sicuramente la situazione attuale è una situazione come dicevo poc'anzi veramente critica e significativa. All'interno della Giunta abbiamo condiviso quale potesse essere la strada migliore soprattutto anche in funzione di quelli che potevano essere i segnali che l'amministrazione poteva dare alla città. Abbiamo poi scelto anche di condividere questa cosa sempre di concerto anche con le associazioni di categoria, anche coinvolgendo alcuni diretti interessati, commercianti stessi. Quello che è emerso è che in un momento di grandissima criticità come questo dove il commercio si trova a singhiozzare, ad essere in ginocchio, una fonte di attrattività come quella che poteva essere legata agli eventi del Natale, alle luminarie, poteva compromettere ancora di più una situazione appunto piuttosto critica. Motivo per cui abbiamo convenuto, abbiamo condiviso che l'amministrazione comunale si farà carico delle luminarie della città valutando accensioni e spegnimenti in un modo ponderato per essere appunto sensibili a cospetto di un momento come questo. A proposito di illuminazione, lei ha anche una delega del tutto nuova, quella alla notte. Cosa vuol dire questa delega alla notte? La città della notte è stata una delle deleghe più discusse, infatti intanto lo ricordo alla mia sindaca questa cosa. la città della notte è stata subito mirata per quelli che potrebbero essere, mi passi il termine, la confusione, il rumore, la musica ad alto volume. Città della notte non significa solo quello, significa sicuramente creare le condizioni affinché si possa coesistere una vita notturna con il rispetto di quelle che sono le normative vigenti. E poi non significa solamente rumore, ma significa anche creare magari attività, eventi, installazioni che possano permettere anche a livello itinerante di costruire dei percorsi che possano creare curiosità, attrattività per la nostra città, non solo per il centro storico ovviamente. A proposito di centro storico, ma in generale di commercio, c'è un'altra funzione sociale che i negozi di vicinato svolgono ed è quella proprio del controllo del territorio. In una città in cui ultimamente ci sono stati parecchi fatti di cronaca poco esaltanti, ha senso anche da questo punto di vista favorire i pochi commercianti che sono rimasti e invece rendere molto più difficile la trasformazione di negozi in garage per la funzione sociale che il commercio ha. È sicuramente uno dei temi all'ordine del giorno, stiamo ovviamente valutando in giunta ogni possibile aspetto legato a questa cosa ed è un tema che abbiamo molto a cuore e sul quale ci stiamo lavorando. Lei ha un'altra delega un po' delicata, quella all'innovazione tecnologica. delicata perché, per esempio, abbiamo appreso attraverso questo nostro ciclo di interviste che a Palazzo Mercanti non c'è nemmeno il Wi-Fi. Quindi come si fa a parlare di innovazione tecnologica quando all'interno del vostro stesso palazzo purtroppo non c'è la connettività senza fili? Sicuramente anche questo è un dato di fatto. Mi piace pensare che le lacune possano essere delle opportunità. ovviamente non dobbiamo solo vedere quello che non c'è ma mi piace vedere anche quello che è stato fatto anche in passato da chi c'era prima di noi per cercare di prendere ciò che propositivamente e propedeuticamente può essere implementato in futuro per tutte quelle che sono le attività legate al concetto di smart city innovazione. Mettere in rete tutte le nostre strutture comunali è sicuramente uno dei primi obiettivi. Premetto che le strutture sono già in rete, non dispongono di una rete LAN interna che permetta l'utilizzo del Wi-Fi nelle nostre strutture, ma su questo ci siamo già attivati e a breve inizieremo ad attivare l'accessibilità da parte degli uffici interni partendo appunto da Palazzo Mercanti e poi andando sulle altre strutture del comune. Tornando invece al concetto di digitalizzazione, è fondamentale anche non dimenticare che attraverso il PNRR ci sono dei fondi che ci possono permettere di implementare quello che già oggi funziona rendendolo ancora più performante. Il concetto di smart city può abbracciare una serie di tematiche veramente molteplici. Oggi, vista la situazione attuale, sicuramente non potremo non tenere in considerazione tutto quello che è l'aspetto legato al possibile monitoraggio e un possibile saving di quelli che sono i consumi energetici della città, agli aspetti della mobilità e anche all'aspetto di welfare del cittadino. Se fosse dotato di una bacchetta magica, quale primo provvedimento magico metterebbe in campo per risolvere uno dei problemi di questa città? Non sono dotato di una bacchetta magica, dunque posso solamente continuare a lavorare come sto cercando di fare, nella massima umiltà e con il massimo impegno. Sicuramente sono tanti i progetti che sono stati messi a terra, ma ogni desiderio rischierebbe di sminuire qualcos'altro, per cui credo che in questo momento l'unico obiettivo sia il lavoro, l'impegno e la costanza. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie a tutti.